Salve amici del segreto e in questo video andremo a vedere il libro Il più grande segreto del mondo di Og Mandino. Mandino viene riconosciuto da molto tempo come uno dei più grandi motivatori del mondo. Ha aperto la strada ad autori come Anthony Robbins, Zig Ziglar. I suoi libri hanno venduto più di 36 milioni di copie e sono stati tradotti in 22 lingue. Grazie ai consigli di saggezza, ispirazione ed amore di Mandino, molte persone hanno saputo ritrovare i veri valori della vita e l'ottimismo necessario per avere maggiore fiducia in se stessi. Ogni giorno è un giorno nuovo con il più grande segreto del mondo. Non ha importanza quel che siete oggi. Oggi il ritorno dello straccivendolo e il segreto dei sette principi vi faranno ritrovare purezza, gioia e fiducia nel domani. Cominciamo subito con il riassunto di questo libro. Ci sono alcuni concetti molto interessanti che volevo sottolineare. Questo libro è un grande capolavoro e contiene moltissimi concetti importanti. In questo video andremo ad analizzare brevemente tutti questi concetti. Cominciamo subito. Il risultato più prezioso di tutta l'educazione è quello di farti fare la cosa che devi fare quando deve essere fatta, che ti piaccia o no. È la prima lezione che si dovrebbe imparare. E per quanto presto inizi la formazione di un uomo è probabilmente l'ultima lezione che impara a fondo. Il successo passa proprio dal fare le cose che non ci piacciono fare ma che dobbiamo fare. Un esempio di questo concetto è Elon Musk che dice di passare moltissimo tempo a progettare anche se non gli piace farlo. La semplicità è la chiave del successo in qualsiasi impresa. Il peggior nemico che hai sono le tue cattive abitudini. Il fallimento è l'incapacità dell'uomo di raggiungere i suoi obiettivi nella vita qualunque essi siano. In verità l'unica differenza tra coloro che hanno fallito e coloro che hanno avuto successo sta nella differenza delle loro abitudini. Le buone abitudini sono la chiave di ogni successo. Le cattive abitudini sono la porta aperta del fallimento. Così la prima legge a cui obbedirò, che procede tutte le altre, è Le tue azioni sono governate da appetito, passione, pregiudizio, avidità, amore, paura, ambiente, abitudine e il peggiore di questi tiranni è proprio l'abitudine. Perciò se devi essere schiavo dell'abitudine, sii schiavo delle buone abitudini. Le tue cattive abitudini devono essere distrutte. Formate delle buone abitudini e diventatene schiavi. Perché è una delle leggi della natura che dice solo un'abitudine può sottomettere un'altra abitudine. Quindi le abitudini non si possono eliminare, quelle brutte, ma si possono sostituire. Ogni atto con la pratica diventa facile. Quando un atto diventa facile, attraverso la ripetizione costante, diventa un piacere da eseguire e, se è un piacere, in questo caso, è nella natura dell'uomo eseguirlo spesso. Una di esse è quella di leggere ogni giorno. Aiuta tanto a mantenere il cervello in forma, ma anche a scoprire nuove idee. Leggendo magari avrete un'idea su come migliorare la vostra situazione attuale. Specialmente se leggete libri che vi aiutano a migliorare. Quindi non leggere semplicemente gialli o romanzi. Il fallimento non ti sorprenderà mai se la tua determinazione a riuscirci è abbastanza forte. Saluterò questo giorno con l'amore del mio cuore, perché come l'amore è la mia arma per aprire i cuori degli uomini, l'amore è anche il mio scudo per respingere le frecce dell'odio e le lance della rabbia. E soprattutto amerò me stesso. Se non ho altro, riuscirò con il solo amore. L'amore non è mai perso. Se non è ricambiato, rifluisce e ammorbidisce e purifica il tuo cuore. A ciascuno di noi l'amore dà il potere di fare miracoli, se vogliamo. E' possibile che un uomo possa essere così cambiato dall'amore da non essere più riconosciuto come la stessa persona. Ama e sarai amato. Ogni amore è matematicamente giusto, come i due lati di un'equazione algebrica. E' dovere delle persone amare anche coloro che li feriscono. Al 95% degli individui manca la determinazione di fare appello alle loro capacità inutilizzate. Dovete promettere a voi stessi che non vi arrenderete mai. Nei momenti difficili dite a voi stessi Io persisterò finché non avrò successo. Se persisto, se continuo ad andare avanti, avrò successo. Devo fallire spesso per avere successo solo una volta. Oggi pianterò il seme del successo di domani. Ogni nobile opera è all'inizio impossibile. Le condizioni della vittoria sono sempre facili. Dobbiamo solo faticare un po', sopportare un po', credere sempre e non tornare mai indietro. Mandino dice Io sostengo una dottrina alla quale non devo molto, anzi, ma tutto il poco che ho è ciò che con un talento ordinario e una perseveranza straordinaria tutte le cose sono raggiungibili. Quindi basta un talento ordinario e una perseveranza straordinaria. Non bisogna avere doti eccezionali, bisogna avere semplicemente perseveranza, costanza, voglia di andare avanti a prescindere dalle difficoltà che si incontrano. Le persone perseveranti iniziano il loro successo dove altri finiscono in fallimento. Nessuna strada è troppo lunga per l'uomo che avanza deliberatamente senza fretta eccessiva e nessun onore troppo lontano per l'uomo che si prepara con pazienza. La via dell'uomo superiore è triplice, virtuoso, libero dalle ansie, saggio, quindi libero dalle perplessità, e audace, ossia libero dalla paura. L'uomo stesso è il coronamento della meraviglia della creazione, lo studio della sua natura è lo studio più nobile che il mondo possa offrire. Come potete notare Mandino è una persona che, così come Jim Rohn, abbiamo visto in molti dei suoi libri, puntano molto a sottolineare il fatto che il lavoro è più importante del talento. Alcune persone hanno così paura di morire che non inizieranno mai a vivere. Dovete dire a voi stessi io vivrò questo giorno come se fosse l'ultimo. Non c'è cura per la nascita e la morte se non quella di godersi questo intervallo. Lo sfondo scuro che la morte fornisce fa risaltare i teneri colori della vita in tutta la loro purezza. Le tue azioni possono controllare i tuoi pensieri. Se agisci in modo sano ti sentirai sano. Tutta la natura è un cerchio di stati d'animo e io sono parte della natura. E così come le maree, i miei stati d'animo saliranno e i miei stati d'animo caleranno. La gioia di ieri diventerà la tristezza di oggi, ma la tristezza di oggi crescerà nella gioia di domani. Dentro di me c'è una ruota che gira continuamente dalla tristezza alla gioia, dall'esultanza alla depressione, dalla felicità alla malinconia. Debole è colui che permette ai suoi pensieri di controllare le sue azioni. Forte è colui che costringe le sue azioni a controllare i suoi pensieri. Se mi sento depresso, canterò. Se mi sento triste, riderò. Se mi sento malato, raddoppierò il mio lavoro. Se ho paura, andrò avanti. Se mi sento inferiore, indosserò nuovi abiti. Se mi sento incerto, alzerò la voce. Se mi sento povero, penserò alla ricchezza che verrà. Se mi sento incompetente, ricorderò il successo passato. Se mi sento insignificante, ricorderò i miei obiettivi. Oggi sarò padrone delle mie emozioni. Se vuoi avere successo nel mondo, devi crearti le tue opportunità man mano che vai avanti. L'uomo che aspetta che una settima onda lo getti sulla terraferma, scoprirà che la settima onda sta arrivando da tempo. Non puoi commettere una follia più grande che sederti sul marciapiede della strada finché non arriva qualcuno che ti invita a cavalcare con lui verso la ricchezza o l'influenza. I momenti d'oro, nella corrente della vita, ci scorrono davanti e non vediamo altro che sabbia. Gli angeli vengono a trovarci e noi ce ne accorgiamo solo allora quando se ne sono andati. Ognuno ha un turno giusto per essere grande quando vuole. Un uomo saggio creerà più opportunità di quante ne trova. Gli uomini migliori non sono quelli che hanno aspettato le occasioni, ma quelli che le hanno prese. Hanno assediato l'occasione, hanno conquistato l'occasione e hanno fatto dell'occasione il loro servo. Le persone che ridono in realtà vivono più a lungo di quelle che non ridono. Poche persone si rendono conto che la salute in realtà varia a seconda della quantità delle loro risate. Non so cosa sia il successo, ma so cos'è il fallimento. Il fallimento è cercare di accontentare tutti. Riderò del mondo, dipingerò questo giorno con le risate. Solo con le risate e la felicità posso veramente diventare un successo. Se consideriamo i frequenti sollievi che riceviamo dalle risate e quanto spesso esse rompono la tristezza che tende a deprimere la mente, si farebbe attenzione a non diventare troppo saggi per un così grande piacere della vita. Il più completamente perso di tutti i giorni è quello in cui non si è riso una volta. Preferisco che uno sciocco mi renda felice piuttosto che l'esperienza mi renda triste. Viviamo in un mondo di mediocrità e di individui mediocri. Promettete a voi stessi, oggi centuplicherò il mio valore. Anch'io devo nutrire il mio corpo e la mia mente per realizzare i miei sogni. Per prima cosa fisserò degli obiettivi per il giorno, la settimana, il mese, l'anno e tutta la mia vita. Devo avere degli obiettivi prima che la mia vita si cristallizzi. Nel fissare i miei obiettivi considererò le mie migliori prestazioni del passato e le centuplicherò. Questo sarà lo standard con cui vivrò nel futuro. Non mi preoccuperò mai che i miei obiettivi siano troppo alti perché è meglio puntare la mia lancia alla luna e colpire solo un'aquila che puntare la mia lancia all'aquila e colpire solo una roccia. Lascia che altri costruiscano una caverna con la loro argilla. Io costruirò un castello con la mia. Superare le azioni degli altri non è importante. Superare le mie azioni è tutto. La mediocrità è eccellente agli occhi dei mediocri. L'ordine di idee più elevato è accusato di follia, così come quello più basso. Nulla è completamente approvato se non la mediocrità. La maggioranza ha stabilito questo e fissa le sue zanne a tutto ciò che la supera in un modo o nell'altro. La gente che non fa mai più di quanto viene pagata non viene mai pagata per più di quanto fa. Le grandi anime hanno volontà, quelle deboli hanno solo desideri. Non aspettarti ciò che non ti aspetti. Se un giorno di lavoro è un successo sociale è stato un fallimento commerciale. Perché è più facile rendere qualsiasi giorno un successo sociale che un successo commerciale. Così come il resto della natura che segue la linea di minore esistenza noi procrastiniamo, temporeggiamo, troviamo innumerevoli scuse per evitare ciò che sappiamo di dover fare. Evitiamo di entrare in azione, azione produttiva, il più a lungo possibile e se c'è una singola caratteristica identificativa di quel 95% che si è accontentato di una vita di mediocrità è questo tratto di inattività. I miei sogni non hanno valore, i miei piani sono polvere, i miei obiettivi sono impossibili. Tutti non hanno valore se non sono seguiti dall'azione. L'azione è il cibo e la bevanda che nutrirà il mio successo. Non eviterò i compiti di oggi e non li rimanderò a domani perché so che il domani non arriva mai. Agisco ora anche se le mie azioni possono non portare felicità o successo perché è meglio agire e fallire che non agire e annaspare. La felicità in verità può non essere il frutto colto della mia azione ma senza azione tutti i frutti moriranno sulla vita. Io agirò ora. Ho fame di successo, ho sete di felicità e di pace dello spirito. Se non agisco, perirò in una vita di fallimento, miseria e notti insonni. Comanderò e obbedirò al mio stesso comando. Il successo non aspetterà. Se ritardo diventerà promessa ad un altro e sarà persa per me per sempre. Questo è il momento, questo è il luogo. Io sono l'uomo, agirò ora. Il cielo non aiuta mai l'uomo che non agisce. I buoni pensieri, anche se Dio li accetta, nei confronti degli uomini sono poco meglio di buoni sogni se non vengono messi in azione. Il nostro grande compito non è quello di vedere ciò che si trova poco lontano ma di fare ciò che è chiaramente a portata di mano. Il fallimento non ti sorprenderà mai se la tua determinazione a riuscire è abbastanza forte. Esponimi all'odio perché non sia un estraneo ma riempi il mio callice d'amore per trasformare gli estranei in amici. Mi sono inginocchiato molte volte dalla schiacciante convinzione di non avere un posto dove andare. La mia saggezza e quella di tutti coloro che mi circondavano sembrava insufficiente per il giorno. Nulla di ciò che vale la pena di fare può essere realizzato nel corso della vita quindi dovrai essere salvato dalla speranza. Niente di ciò che è bello avrà senso nell'immediato perciò dovrete essere salvati dalla fede. Niente di ciò che vale la pena di fare può essere fatto da solo ma deve essere fatto con gli altri perciò devi essere salvato dall'amore. Questo sarà il libro Il più grande segreto del mondo di Ogmandino un libro che vi racconta il segreto dei principi che vi faranno ritrovare purezza, gioia e fiducia nel domani. Spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio della vostra attenzione ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!